Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Una fiera dell'ascensione parallela, quella organizzata dall'associazione culturale Vogherè è presentata dalla presidente Patrizia Longo e da Mauro Raghezzi presso il Giardino delle Idee Si comincia venerdì 26 maggio con la mostra personale di arte del vetro di Patrizia Branca Leone che sarà visibile fino al 28 maggio Non solo vetro, spiega l'artista che opera a Ponte Curone sarà l'occasione per dare spazio all'artigianato anche se è un'attività di cui non si vive più perché le persone, spiega Branca Leone preferiscono il brutto a 2 euro invece del bello Il 27 maggio alle 17.30 sarà la volta della presentazione del libro di Maria Giovanna Luini La luce che brilla sui tetti opera definita dalla critica emozionante, insuperabile e coinvolgente Il 31 maggio saliranno sul palco del Giardino delle Idee in via Felice Cavallotti 16 i Delta Junkman, complesso composto da due musicisti pavesi che delizieranno i presenti con le note del blues delle origini, quello acustico e più rustico Ma l'appuntamento più atteso è senza dubbio quello di domenica 28 maggio alle 17.30 quando presso l'associazione Vogherè sarà ospite il neopremio Pulitzer Leosisti stimato a livello mondiale grazie alla sua attività di scrittore e alle sue inchieste giornalistiche Per l'occasione Sisti verrà nominato socio onorario dell'associazione Vogherè